Ciao a tutti, questa è l'app Aboka Life che vi permetterà una volta registrati di accumulare punti e di poter ricevere anche dei prodotti Aboka gratuitamente e non solo, inserendo il codice a barre e il numerino presente in ogni prodotto, possiamo tranquillamente rischiare di avere un anno, di vincere un anno di prodotti Aboka, quindi io non aspetterei più, scaricherei questa fantastica app Aboka Life, questa verde che ora clicco, come vedete carica, stiamo caricando i tuoi dati, perché io ci sono già e ho già accumulato 126 punti, queste sono allora, andiamo diciamo così, questa potete collegare il profilo con Facebook o inserire la foto voi, sfogliando dalla galleria, modificare l'account, se volete, ma io non lo modifico, qui tanto ritorno a vincere, ritorno indietro perché tanto io non modifico niente, poi questi punti Life, da cosa l'ho avuti? L'ho avuti semplicemente inserendo dei prodotti che io avevo in casa, il neofitoroid, come vedete io ho giocato il codice, questo è il codice ADT, è il codice interno trovato nella confezione, insieme ad esso vi chiederà anche il codice a barre e ogni prodotto ha i suoi punti, poi ho fatto Natura Mix Advanced Mente, claconcini, questo perché la conferma, questa è la richiesta di giocata, Instant Win, che però non ho vinto naturalmente, poi Serenil Calmanzia e qui c'è tutta, tutta, tutta la storia, se mi va, perché, ah ecco, e qui ci sono i due prodotti che ho potuto acquistare grazie ai punti, ai punti che ho ottenuto, e li ho acquistati il 2 di gennaio di quest'anno, e sono Royal Jelly Bio Oro Solubile, che è una pappa reale essiccata, che non va conservata in frigo e che è oro solubile e si può sciogliere in acqua oppure in qualsiasi liquido, ma anche prenderla direttamente con la bustina e sciogliersela in bocca, ed è micidiale, è ottima, è consigliabile prenderla la mattina, una bustina appena alzati. Il Fitostil Plus, invece, si tratta di flaconcini monodose di collirio, a base soprattutto di camomilla, e poi ci sono gel, acidi ialuronico, acidi vari che ora non mi ricordo, ma che aiutano a contrastare la secchezza dell'occhio, ma soprattutto è contro la luce blu, è un nemico della luce blu emesso da cellulari, dagli schermi della televisione, dei computer, quindi aiutano l'occhio a rifocillarsi e l'idratazione dura veramente tanto, molto molto a lungo. E questi sono i due prodotti che io ho inserito, infatti dice giocato codice, perché ho inserito codice mandato 16 punti, e giocato codice 10 punti, e poi c'è giocata instant win, giocata instant win, l'instant win è quello che poi vi chiederà, appunto, dopo che voi avete inserito e vi farà fare una foto del prodotto, vi chiede gioca all'instant win, e poi peccato non ha vinto, perché per ora io non ho mai vinto, poi io ho, ecco, e ti spiega come ho utilizzato 147 punti per completare, per comprare questi due prodotti, lo ripeto un po' diverse volte, perché, e dice hai acquistato questo, poi c'è un'attività, ti fa vedere anche le attività, e lo sci, vabbè, gli altri prodotti che io ho inserito, eccetera, eccetera, vabbè, eccetera, andiamo avanti, qui preme i vinti, preme i vinti, ahimè, non ce n'ho, perché l'instant win, ancora non ho vinto un fico secco, torniamo indietro, qui c'è il tasto gioca, se io premo qua, come vedete c'è scritto aggiungi prodotto, numero, codice a barre, e codice interno della confezione, una volta inseriti qui, si preme, ora vabbè, in un posto, premi avanti, e ti chiederà una volta riconosciuto il prodotto, la foto del prodotto, e poi puoi partecipare in seguito al instant win, poi ci sono, qui vi spiega, gioca codice e cumula.life, trova il codice interno e scopri partecipando all'attività della community, come ottenere altri punti, poi dice, hai più di 100 punti life, puoi acquistare i tuoi prodotti, infatti qui, se io pigio, vado allo store, io posso provarvi a pigiare, ve lo faccio vedere, e vabbè, qui c'è per le mie credenziali, ora non ve lo faccio vedere, poi accedete e vi manda allo store, però tanto è semplicissimo, quindi imparate presto, gioca, dopo un fatto e vince un anno in salute, natura di salute, e questa è la box, non so se, ecco, lo sapevo, non so se me lo fa vedere, nonostante è, o devo entrare, via un po', un anno di salute, dal valore di 302 euro, e contiene il box salute, io non lo so perché è la prima volta, Green Tuss, adulti, sciroppo, sedi vita, servanzed, che sono fantastiche per dormire, la tisana, immunomix, immunomix, questi sono tutti i prodotti contenuti nel box, quindi è anche la vitamina C, Gola Mir, Natura Sostegno, Neuvian Acid, sono tutti prodotti che aiutano, compreso mi sa anche libri, tutti i prodotti, ricette, l'ombrello, bellissimo, no? Prodotti dal valore di 302 euro, che vi arrivano con questo Instant Win, nel caso, dubbiate per caso vincere, magari, quindi il catalogo vi fa vedere la collection di Avocalife, prodotti, ma io come al solito mi sa che non mi ci fa entrare, oh, ecco, i punti Life Store, così sono già entrata senza bisogno di farvi vedere, e questi sono premi a disposizione con i punti che possiamo prendere, e c'è neofitoroid, che è una crema lenitivo, un detergente cremoso protettivo lenitivo, e c'è anche una crema, volendo, per gli emorroidi. L'herpes, basta cliccare, raggiungere il carrello, fare piccolissimi clic, e poi è facilissimo. Avanzed Mente, Buskoven Plus, questi sono prodotti che sono disponibili al momento, e variano spesso, quindi bisogna cercare di, se uno è interessato, di accaparrarsene il prima possibile, appena io ho 126 punti, quindi volendo qualcosa potrei fare. Poi, per te, per te è la sezione dove si vede appunto il codice amico. Se voi, io voglio invitare un amico, e voi mettete questo codice, io ho diritto anche a 10 punti in più, 10 punti Life, e posso inviare il mio codice anche scrivendo qui la mail. Poi, se si completa il questionario, si ottiene 10 punti in più, questo è il codice evento, che serve dopo un'attività, la community aboca Life, ci manda una mail con un codice, che è il codice evento, e vabbè, qui info, ma tutto così. E questa è la chat, un pulsantino giallo, dove ti risponde una persona, una bot chat, chat bot, non so come si dice, che è molto disponibile, e ti risponde. Fine, è facilissima da utilizzare, io la consiglio, veramente.